Ciao agli amici di Rete Veneta, ho visto il vostro servizio al TG e ho visto che state aiutando Silvia, è una carissima amica, una persona disabile che ha bisogno di cure e ha bisogno di aiuto da parte della regione e da parte del sistema sanitario. Spero che si trovi la possibilità di aiutarla perché ci sono tante persone come lei che hanno voglia di vivere, hanno voglia di lavorare perché lei è una grande Veneta che nonostante la sua disabilità al 100% continua a lavorare. Per cui non mi sta bene che diamo i soldi a chi sta sul divano con il reddito di cittadinanza e non aiutiamo i nostri disabili. Quindi onore agli amici di Rete Veneta che anche questa volta si stanno impegnando per aiutare gli altri. Voi non siete soltanto una televisione, siete certe volte degli angeli e quindi grazie per l'aiuto che state dando a Silvia e questo vi fa molto onore. Continuate così perché siete bravi.